picchia? sei male allora so che voi non mangiate tantissimo piccante però per chi viene nel Sichuan e soprattutto a Chengdu non può non provare il piccante e soprattutto l'hot pot quindi stasera hot pot buon buon ciao 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 pita bookstore si ecco è il primo questa è la prima un po' 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 ci sono tue' due tene Abbiamo ordinato la pentola con la parte piccante con la meno piccante. Il risultato è un po' di più. L'accommodo è molto strano. Ma non è più che si tratta? Ah, no! Tu mi ricordo è stato un po' di più, non è una cosa così. Come si tratta. Sì, anche voi è stato un po' di più. Abbiamo un po' di più che di tutti i giorni. Abbiamo sempre? Abbiamo sempre? Abbiamo sempre di come fredda. Abbiamo sempre di fare la scuola. Abbiamo sempre di fare la scuola. Abbiamo anche di più. va sì sì va sì quasi l'intestino l'intestino ma anche questo anche questo anche quello qui dove passa la mer allora piattini sei ma cosa allora metti i gusti che vuoi allora Per esempio, io metto un po' di arachidi. Sì. La provo. La provo. La provo. Ti faccio provare una cosa. Allora, questa maradice è tipica. Io che segui giù dove va. All'inizio. Eh, ce ne avevo sempre più. Ma quanto ne prendo così? Sì. Allora, provo, provo. Eccolo. 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 Beh, però vuole. Com'è? Non è cattiva. Stiamo caneggiando. E' un gusto che... E' indefinibile. Io la prima volta che l'ho mangiata mi veniva da vomitare. Anche a Luca. Ma vi provalo tu. Eccolo. Non bisogna far più ordinare a lui, eh. Vabbè, dai, ti hai mangiato poco da quando si vincita. No, no, adesso si può. Perché vedi che vuole. No, un po', un po'. Le uova. E questo è quello meno piccato. Quello è quello meno? No. Non è possibile. Ha sbagliato. No. No. Ma ce l'ho perso. No. I due l'ho perso. No. No. Com'è? Fammi piccante? Luca, queste si mangiano. No. Quasi sono della zuppa. Questo non lo metti a dentro. Metti. No, lo metti. Faccio cosa? Piccante. Faccio un po' per l'acqua. Sui mammut. Guardi. 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 Cola umana. Guardi. Però quella che c'è il «mise giallo». Questa sch感 Foundas. Ragazzi provate questa. No. Alla la hai messo dentro lì, fissà? Ho chiesto. Guardi. Guardi che, difficili, se ti faccio learned a tutto. Vecivo. Guardi. Guardi. Wow, è una buonccia? Oh, è fatto? È un torno di piatto? Oh, ogni tanto. Che accedono. Mirè abbiamo un diccio. Faccio una giornalità. Questa sentire una mano. Non è non è un sacco. La mangia le faccio. whichi sono i nostri cieli. Che sei il comune in pietro e non lo so. Non è il comune. Le metti è in pietro. No, non è il comune. Silo di tutto. Ma lui non è abituato? No No Mmm Ancora mi metto suona Ma questo è buono Non piccante, questo è funghi e quello è il pomodoro Se è troppo piccante Non è solo piccante No, no, la vera sfida, il vero challenge è questo Quella roba lì Non è che c'è qua Un bel tappo Sì Oh, una bella ecca Ahahah Ahahah Ahahahah 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 Dopo c'è la torta al peperoncino Sì, è molto bello, perché ad esempio sono tantissime città. La LORD, come siamo? E' una cosa... Non succederà. Un po' di pesce. Meno piccante della salsa. E' bello, come si trova? E' bello, bello. Bello? Buono, buono. No, no, no. 3, 2, 1. Ma ciao! Ma ciao! Vi immaginavate così il cibo cinese prima di venire in Cina? Quello che c'è in Italia non c'entra proprio niente, niente, non c'entra niente. Sono cinese ma, infatti, è buonissimo. Leggero perché alla fine insieme. Ad esempio l'hotpot è un piatto che, a parte quando mi avete portato a Milano, mi l'ho conosciuto lì, ma non pensavo a noi stessi. L'unico è il tofu puzzolento. Il tofu puzzolento no. Papi, il tofu puzzolento è il tuo preferito. Come la pizza al Buria. No, è vero, dobbiamo andare a provare la pizza al Buria. Ma non è buona. Non mi piace. Come la pizza al Buria. Noi proviamo tutto. Ti è piaciuto? Sì, ma io resto. Noi. 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 Noi.